Dopo aver girato il mondo e ritratto ai volti di centinaia di donne, la pittrice romana Silvia Proni, segnata dalla scomparsa di una carissima amica, ha deciso di dedicare la sua attività artistica all'Associazione Italiana Ricerca Contro il Cancro. La sua mostra, Le donne colorano la vita a fara tappa, pescara da sabato prossimo fino al 9 marzo presso i locali dell'Aurum. Il mio sogno è quello di poter far vedere queste mie, voi le chiamate opere, però voglio dire sono i miei figli quelli che spero praticamente che piacciono e vorrei praticamente raccogliere più fondi possibili proprio per la ricerca sul cancro. L'arte può essere veicolo per situazioni come queste? Senz'altro, senza altro, può essere, basta volerlo. Dopo un breve vernissaggio moderato dal collega Paolo Castignani sul tema dei comandamenti della prevenzione e riduzione del rischio dei tumori femminili, alle 18 il convegno dal titolo Il Cancro si può prevenire nuove speranze per la ricerca, con le relazioni della ricercatrice del Dipartimento di Neuroscienze Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara Paola Patrignani e la professoressa del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università D'Annunzio Estera Vita Colonna, che parlerà di alimentazione e tumori. L'importante è questo, prevenire o quantomeno riuscire a fare una diagnosi il più precocemente possibile. Non per questo la ricerca adesso sta battendo il tasto molto anche sulle metastasi, perché alla fine si è visto che questa malattia, se arginiamo la metastasi che colpendo gli organi vitali ti porta a morte, se riusciamo ad arginarla potrebbe diventare una malattia cronica, come esiste il diabete, perché tanto è talmente diffusa che si cronicizzerà. E questo è fondamentale perché alla fine la qualità di vita sarà migliore, ti porterà a vivere a lungo e quindi gli studi si stanno concentrando veramente sulle metastasi, perché quando si presentano quelle c'è ben poco da fare.